Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di MAMI VILLAGE Ecco qua Emanuele, ciao Manu ciao 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 Emilio, dov'è Emilio? Sono nominicato con la spada che già sto morendo Ok Allora, abbiamo tantissime novità E' passato quasi un giorno dall'ultima registrazione Come potete vedere Emanuele con la cosa di pelle inutile Emilio ti ha una bellissima armatura di ferro Guardate io Un bel niente Comunque Qua abbiamo fatto le ceste, abbiamo sistemato un po' la roba Qua ci sono i drop Le cose verdi Con un po' di cibo Abbiamo pescato i pooperfish Cioè i pooperfish E venite a vedere cosa ho pescato io Qua abbiamo i minerali Ovviamente mi ignorano Non è mai uscito dalla caverna Ah spero, una cosa do Abbiamo finito di registrare Infatti ci abbiamo Casino di roba Per non parlare di diamanti trovati Ah, i diamanti che ancora non abbiamo preso ovviamente Ora ve li faccio vedere Qua abbiamo blocchi vari Che Emanuele si è divertito a sistemarli in questa maniera strana Emanuele sopra abbiamo un po' di attrezzi e roba varia Ovviamente dobbiamo comunque fare una struttura per sistemare tutto Mentre questa chest Abbiamo Prende altri attrezzi Queste cinque canne da pesca Assolutamente inutili Un paio di picconi Spade Pale Un po' di Andrea spera io perché ho preso le canne da pesca Sì perché sei bravo a fare le cose inutili E tra l'altro ti sei fatto l'armatura E di io Dio che cosa ho fatto Cosa ho trovato E così mi ho sprecato tutta la pelle Un muro con gli obiettivi futuri Come potete leggere Che però adesso mi scoccio a leggerveli Quindi guardate Io qua sotto la Envil L'hai fatto? Sì Guarda che bella la Envil Guarda che bella Qui abbiamo una piccola forma di alberi Perché giustamente Per costruire abbiamo bisogno Della legna in primis Li leggo io Ovviamente Aspetta un attimo Sto finendo Ovviamente per la Cobblestone C'era un delirio là sotto Perché Emilio ha svuotato il mondo Qua abbiamo la nostra casetta Con una mappa Che ha fatto Emanuele Perché non le fa cose inutili Due vasi con i fiori Altrettanto inutili Qua abbiamo la La pelle sprecata da qualcuno Delle ceste Tanto per Per sprecare altra legna Perché la fine è bello E qua c'è la Envil Qua c'è una bellissima faccia da Creeper Marrone Che è bruttissima Con cui unirò Scendiamo un poco qua Vediamo che è successo Ok Come è un po' scritto Il pranzo Che però siamo Andate in moto Prevato 22 livelli Abbiamo una cesta di Cobblestone Gravel Dirt E questa è interamente piena Di Cobblestone Ah ma io faccio un libro C'avevo scritto No Vabbè Allora vediamo Abbiamo installato una cesta Ve l'ho detto Ah c'è la cesta del cibo Vicino a casa Dio ed è dentro casa Aspetta ve la faccio vedere Tanta 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 Eccola qua Canata Ma lei l'ha spaccato la Envil È un gel Non ho spaccato la Envil Puffa C'è una cosa Sì è una cosa indegna Poi che altro c'ha? Ah abbiamo trovato una caverna Andando verso nord Da quella parte Poi Emilia ha scavato a bestia Ve l'ho già detto Abbiamo messo la canne da zucchero qua La potete ben vedere Quasi è bello queste canne da zucchero Sono verdi Cioè sono Sono canne da zucchero finalmente Poi ho bonificato l'area Io ho bonificato l'area Dalla steppaglia Però perchè i fioralini li buttati? I fioralini sono qua No ci sono quelli nel laghetto Peccato Poveri i fioralini Vabbè sono tre Poi abbiamo la legna Ve l'ho detto Eh infatti Emanuele ha fatto Tanta roba inutile Questo l'ho scritto ieri Tra l'altro Non l'ho scritto adesso Cosa ho fatto eh Cosa ho fatto? Allora io Interessante E nel tempo Io vado alla ricerca Del darkwood Vai vai Primo di monte E spiega Sì sì Vai a fare il darkwood Perchè ci servirà Perchè dobbiamo costruire Io il magazzino Emanuele deve fare Il tetto della casa E comunque il darkwood È bello Ma dobbiamo aggiungere Gli alberi che stiamo coltivando Io perchè non corro Ok Poi c'è un amico Che cerca di superarmi Io lo supero di brutto Ok Ehm Ok Dov'è quella cosa che c'è Ehm Ehm Un po' più in là Vabbè Siamo arrivati Un quarto d'ora circa E arriviamo Dobbiamo fare qualcosa Per capire che lì C'è casa nostra Altrimenti Vabbè ma si capisce Cosa Si vede C'è la costruzione Eccolo Ok siamo arrivati Ma come potete vedere qua Abbiamo due caverne Che penso che Emilio Abbia già svuotato Sì E mentre di qua Zan zan Altro diamante Vabbè due pezzi di diamante In questi lo useremo probabilmente Per fare la tavola degli incantamenti Mi sembra giusto Ah lancia la mosse Shhh Ma ancora più importante Qua Abbiamo uno spawner La scolchiamo Vai Cosa c'è nelle ceste Sentito Capisci Capisci Qua c'è una targhetta per il nome Due pani Una sella Perfetto Cinque pezzi di redstone E due gunpowder Vediamo cosa c'è di qua Tre pezzi di wheat Una redstone Una stringa Un disco cut Due panne Perfetto Tre gunpowder Bene Diciamo che qualcosa Come trovo Ok Abbiamo trovato i cavalli Ssshh Ovviamente qua faremo un bellissimo spawner Per l'esperienza Perché giustamente Emilio scava Fa un sacco di esperienze Come la usa Buttandosi nella lava Mi sembra giusto Scusa Bene Io comincerei a prendere questa Questa mossi Cobless Perché mi piace E' figa E' figa Cioè Dai benissimo E abbiamo bastato il darkwood Quello di là Quello di là Non mi sono fatto uccidere Ok Mi è finito il piccone Eh te ne do uno io Scusa Beh appunto Quello c'è tipo 47 picconi All'inventario A me la bebe Ok Ce l'ho Io tipo la gola tiratissima Non riesco a parlare E non parlare Sta zitto Se il soffogo Non lo sapete perché Ok ok Stiamo finendo a quanti sai Ce ne faremo una radia Ok perfetto Mi sento io tra la voce di video Eh mia Quando sai Gli dimostri Di fondo E ora bene un attimo Sto prendendo questa Ma da dove arrivano sti schede Vabbè c'è un buio ancora Non è illuminato qua Ma è illuminato bene Mi scoccio Comunque ne ho 22 di mouse Non bene perfetto Quindi ho altri 40 40 ok Ricordiamo Sto che te li do Illumino bene Vabbè ce lo ricordiamo Perché uno spotter di scheletro È importantissimo Perfetto Torniamo su Ma che su? Vi farei vedere Quanto ha scavato Emilio Però mi scoccio Da morire Ed è tronco Prendiamo questi due pezzi di diamanti Così facciamo la tavola La tavola Allora Una Allora dobbiamo fare i 10 seti Prima diamante della serie Prima diamante della serie Prima diamante della serie Eh il primo diamante della serie Prima diamante della serie Eh si felice Felicissimo Sei felice Manuara Una pallina Ok perfetto Dopo l'espressione allegria di Manuara Ok Sono troppo No non chiudere No sono troppo Bisogna bastire Ah ok Torniamo dietro Che silenzio Perfetto No il tempo di cambiare la spada che è Dobbiamo mettere una ferrovia qua Ricordiamo C'è questo oppure uno dei miei obiettivi A proposito Ora vado a prendere pezzi di ferrovia Uh guarda Bello del porto Se già cominciamo da aver Quanti maiale Infatti ci sei anche tu C'è Peppa No Peccato Aspetta questa di qua perchè Ah si c'è c'è Eccoci Ci sono un quarto d'ora Solo per E non è neanche a metà 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 Cerci a morire Noi siete voi precisamente Ancora in galleria Non potete dormire vero? Si stiamo Sì un ottimo Sai com'è io mezzo a nulla Stai in mezzo a nulla Che vuoi? Stai dormire in mezzo a nulla Non è bello Tu ti scegli il tuo destino No ho sbagliato Non è l'est Sbagliato scusato Ok ci sono Ovviamente la cosa che non mi porto mai Qual è? Il letto Ma male dove sei? No quello che sto facendo Ma male Sì? Aspettiamo te Ok Vai Noi stiamo dormendo Sì pure Ok Ti sei fatto un altro letto? Sì Sprecone Quanto lo volebbe guardare qua? Cioè questo diamante Lo metto Uno nella cesta di Andrea E uno nella cesta di Esatto Va bene Levate le cesta Levate le cesta E vi posso dire No basta Non ci sono mai le lascia Va bene Io lo mostro perché tanto non è inutile Magari mangio Ma come magari E posso costruire Riusci a trovare il dart? Ok No non lo trovo Va bene Allora direi di cominciare a fare A lavorare Mi sono perso Attimo solo Ma questi non hanno solo il tronco 2x2 No Ok comincio a fare il magazzino Ah capisco Magari faccio la struttura esterna Ah ok Ma se ti abbiamo detto in due di no Aspetta il dark Asso il tronco 2x2 di base Sia io che a Emilio Ti abbiamo risposto di no Solo Emilio Ma Emilio non ne sa niente Tutti e due ti abbiamo risposto di no Guardati la registrazione E parli piano Eh parli piano E cosa c'era? Sto giro pure io parli Questa sobbiamo Questa tu Il disco lo metto qua Fate il jackbox Sì E poi di avanti Ma perché dobbiamo fare il jackbox? Travalli bianchi! Sì e salutami Prendiamo la Pobleston Ok Per un magazzino molto semplice Perché Perché un magazzino Non deve essere Un super magazzino C'è già Manuara Che fa cose inutili Quindi Evitiamo di Di peggiorare la situazione Oh dungeon 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 Salutalo Di cos'è? Zombie Ma vabbè puoi distruggermi Per lì la roba dimmi cosa c'è Faccio uno scream Discriminazione per gli zombie Ok facciamo allora Uno Due Facciamo una porta Perché ci vuole una porta Come facciamo a entrare senza una porta Mi devo portare al principio Se non è c'era una porta già fatta Ma dove? Nella sella Ce l'ho Ce l'ho la sella Perfetto WIT Disc redstone gunpowder Mela d'oro Altro music disc Cat Name tag Pane String WIT Cioè che music disc Mese di niente Perfetto Posso andare Prendo la mossi Sì sì Che music disc 13 13 E poi cat Mi pure noi quella Ho trovato Ho trovato anche un 2.13 Ho trovato io Io farei proprio qua il magazzino È semplice È appartato È dove deve stare Qual è una cosa furba che potrei fare? Sembra una pubblicità È semplice È appartato È dove deve stare Ok basta Ho trovato la sella Ce l'hanno i cavalli bianchi? Sì sì Ce l'hanno bianchi Ma tanto Non li puoi domesticare Se non ti sei portato la carote Infatti Troppo poco Guarda c'è rimasto male Sicuro Non c'è bisogno Sì ci vuole Come no? Ah no vero per daire a mangiare Hai ragione Ecco Bravo Perché c'è un Emilio che scava qua? Qua dove? Qua qua Cioè ti Sto prendendo La ferrovia I pezzi di ferrovia Guarda un po' più in alto Ci sono io Ma vedi il mio nome? Sì Ora no Vabbè Ma ho cambiato la texture della gravel È un'impressione mia Non mi è sembrato Fino a ieri Ho 47 di mossi Mossi Muoviti Mossiti No pensavo ci sia una pazzuta più bella Però È vero Allora Ma insomma Ovviamente poi mi dovete dire chi è che non fa niente Ma non male Perché poi Oh cazzo Vi sento per caso la cosa degli spider La regna tele Eh no Però prendile Che palla Sono troppe Quelli che si servono per liberare il passaggio Eh non hai capito quante ce ne sono Cavallo con credito Ho trovato che io nel primo episodio C'è un cavallo con 13 cuori È bellissimo Oh cazzo Ok allora ho fatto una piattaforma 9 per 13 Ok Iscrivetevi Emilio Sei ancora vivo È un creeper Ah ok Potevi prendere la Non farla esplodere La campagna Ma si possono fare L'armatura per i cavalli Scusa se Le regna tele Non permettevano Come? Perché Le regna tele Vai a maestra Vabbè mi muro piano con le regna tele Allora ci mettiamo la cobblestone così sappiamo dove sono gli angoli Mi indro Mi sto perdendo Cioè questo magazzino farà parte anche di questa maglia Perfetto Bella È un cavallo Ok La panni per tutti Ma io me lo porto Prima scavo e poi richiudo Perché è così che si fa Un attimo Ok Oh cazzo Stavo dicendo che io È Dark Hawk Trovato trovato Ha detto Dark Hawk Dark Hawk Ah ok No perché avevo capito male Ok Ora faccio una cosa Tu No 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 che tu c'è No no Sì Sì Cazzi scuri sì Esatto Cosa È scurile Non è vero Non lo so Non c'è di Bello Magari perché mi fa tipo di quei magazzini quelli al buio sport Ma che belle cose No dai ma è meglio di quelli classici Ah ecco Secondo non bello esteticamente però realistico È funzionale soprattutto Poi qua scendo Poi qua non ti muovere Perfetto Non ti muovere Non ti muovere Non riesco a fare da putti Però che niente Ok ora facciamo il Il muro Ok magari se lo faccio giusto è meglio Vabbè dai cominciamo dall'entrata Dalla porta E dall'altra Quanti subling porto? 12 Tutti quelli che riesci a prendere Va bene Siccome O chiudiamo Ninja Aspetta Sono passati dicendo Un quarto d'ora Sì sì No ma TANTO Scusi Sta poco Qua io ci metterei No qua non mi piace Qua siamo troppo Ok No qua ci mettiamo la porta Just because I like it C'è C'è Oh Obvious Ma sì mettiamoci la cobblest Qua ci mettiamo un po' di Ok ora devo mettere Tch 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 Che successe? Ne ho messo un blocco di most cobblest E' stato messo per la porta Senza aprirlo Ehm Ok allora qua c'è la porta Puoi dire di fare una cosa di questo tipo? Uno Due Tre Poi Stima Penso di essere vicino da qualche parte Stavo pensando di essere capace di portare via tutto C'è solo i tronchi senza i sapling Qua ci dobbiamo mettere in realtà una glowstone Per fare la luce Comunque qua ci metterei i bu Come? Cosa ci metteresti? Che le le coordinate qua? Scrivitele Ehm Emilio dove sei precisamente? Le mie? No tu dove sei in questo momento? Quel paese Io a questo minuto sarei praticamente sotto in galleria Quella Non quella mia Quella che già c'era Ah ok no perché non potresti segnalare tu nel mio libro Come faccio? E so Pizzino E poi te le scrivi Quando torni le le scrivi nel libro Vabbè Anzi Magari Non lo so Giusto per fare qualcosa Non so che non vuoi scrivere Fatto No bravo Oh e che ci voleva? Complimenti Sei troppo forte Ok ora qua dobbiamo mettere Allora Il muro Qua lo facciamo il muro Laterale 192 meno 1254 Eh ma non si è perso Vediamo così Lo facciamo così Così Che dobbiamo spezzare C'è il contrasto tra mossi cobblestone Mossi cobblestone E cobblestone Pazzesco C'è l'ultima scacchi? No peggio Non ho idea Vabbè Non è scacchi Però per quanto che in una riga c'è una mossi cobblestone messa in maniera particolare Nell'altra In quella accanto c'è un'altra mossi cobblestone messa in particolare E nella Quella subito dopo non c'è Fai finita che ho capito Eh poi quando torni lo vedi Non ho idea Non ho idea Verrà qualcosa di incredibile Facciamo così Eh è infinito qua Ok un altro creeper Saluta Uccidilo non lo fare esplodere A me non mi piace Vediamo ora questo lato Un saluto è più complicato Perché qua L'ho ucciso Bravo Quanta lampada ti ha dato? Nessuno Nessuno Ma no dai come è possibile Non dico che ripersi senza campato Non dico che ripersi senza campato Nessuno Nessuno Guarda qua faccio una cosa mazzarella Ci metto Due pezzi di mossi cobblestone Di mosso Si sentono? E' notte Eh Facciamo così Facciamo uno Facciamo uno Questo facciamo così Faccio Fatto Vediamo andare dentro No non ci serve incredibile Stupendo Che è successo? Non so credi Facciamo uno però uno è uno fatti due però qua dobbiamo ripicciolire perché qua ci andranno le fornaci e ce ne mando tre qua e tre qua quindi ne facciamo una cosa di questo tipo no di questo tipo avrei trovato 54 rail ho detto una così poca oh quello che sto trovando possiamo dormire? no vabbè mi direi di fare una cosa per questo episodio basta abbiamo cominciato il magazzino siamo a buon punto e Manuela finalmente ha trovato Lockwood io mi sono perso nel prossimo episodio mettiamo la cesta lo finiamo e ci portiamo avanti che ne dite? vabbè non posso salire come non puoi salire? cioè posso però dobbiamo fare saluto tutti lontano Manu dove sei? io in tipo dall'altra parte del mondo e mi dove sei? giù giù ma giù non so dove io sono all'entrata della miniera da dove sei arrivato ah ti vedo ah ti vedo ah se mi vedi tu aspetta fermo non ti muovi che se mi dimentino la strada siamo rovinati se abbiamo posto tutto ok ci sono sì eccoti salutami sai vabbè che mi dice ehi ciao ora mi sono dedicato la strada quindi veloce va bene ragazzi per questo episodio è tutto ci vediamo al prossimo ciao ciao da ciao Emilio ciao 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 ciao